Il malato non è sempre malato, la malattia mentale non è una malattia che copre l'individuo e lo annulla. Se stai in un luogo chiuso fai delle cose rituali, ripetitive, che ti proteggono da un lato e però non ti fanno andare avanti. Sarebbe molto semplice chiedere alle persone che hanno un disagio psichico in che cosa si vogliono ricimentare per avere un nuovo rapporto sano con la vita. Non c'è però calcio migliore, parte Ivan, attenzione Ivan è da solo, ancora Ivan, il portiere davanti, un cucchiaione, si ha fatto il cucchiaio, un super golasso. La pizze vede, come dire, la squadra è come l'altra, anzi siamo più forti, quindi te ne ripeto la piccoletta, siamo il gabbiano, siamo un'e meglio.